Ho sentito una fitta dietro il ginocchio che non avevo mai sentito prima. Si avvicina Lorenzo Pellegrini e gli faccio... Mi sono spaccato tutto. Il fede ti stravolge la vita e è molto bello. Oggi c'è una buona notizia, mamma. Ho corso. Tra me e me mi dicevo, ma chi me lo fa fare? Ma perché? Basta, basta. Grazie a tutti.